Ciao a tutti, io sono Valentina e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò tutto il materiale che ho acquistato per frequentare questo nuovo anno scolastico. Scrivetemi qui sotto nei commenti che scuola frequenterete quest'anno. Io direi di non perdereci in chiacchiere e di iniziare con il video. Direi di partire dallo zaino e ho preso questo della Eastac. Come potete vedere è differente dagli altri che ho preso in precedenza. Perché questo non è né nero, né fucsia, né viola, ma verde e acqua. Azzurrino, oserei dire. Molto bello, mi piace per la fantasia, perché è ricco di vegetazione, animali, qua abbiamo un serpente. E niente, ora vi mostro che cosa si cela al suo interno. Ho preso questa agenda viola e l'ho presa per due motivi. Il primo, la copertina. Il muffin con la ciambella, il bubble tea, poi le caramelline che ho spasso un po' per la copertina. E poi vabbè, mi piaceva anche perché non pesa tanto e contiene un sacco di foglie. I fogli sono tutti a righe, quindi questo mi aiuterà a tenere gli appunti ordinati. E poi mi è piaciuto un sacco perché vedete ha le diverse sezioni, quindi mi aiuterà a tenere ancora più ordinati e puliti i miei appunti. Ho preso questa cartellina e mi fa ridere questa cosa perché io arrivo sempre a fine anno in cui metto tutte le schede che ci danno i professori direttamente nello zaino. Invece no, quest'anno voglio cercare di tenere tutti i fogli che mi danno i professori in una cartellina, quindi l'ho deciso di acquistare così non rovino neanche quei fogli. Perché magari i professori ci dicono di suggerire quell'argomento e non ci capisco più niente perché è troppo accartocciato quel foglio. Dato che non per tutti sarà divertente rientrare in classi come la sottoscritta, per allegrare e colorare di più questo nuovo anno scolastico ho deciso di acquistare anche questi colori. che mi aiuteranno tantissimo per gli appunti perché ho notato che i colori più ne utilizzo per riassunti e schemi mi aiutano di più a ricordare i concetti, quindi davvero molto utili. Sicuramente questa fascia, io adoro il fuxia, lo utilizzerò nei miei appunti. Poi non potevo non prendere questo diario, ragazzi è pazzesco, è stupendo, è morbido e il colore, dobbiamo parlare del colore che continua a riflettere la luce del proiettore. Una cosa carina di questo diario è che se lo aprite e andate alle prime pagine trovate il diario con tutti i mesi e i giorni. Qua c'è il planner in cui potete scrivere anche i compleanni dei vostri amici. Comunque ho anche un sacco di spazio, quindi se scrivete grosso come una casa come me avete tutto lo spazio per scrivere i compiti e anche per qualche disegno, se ci sta di tutto e di più. Poi ho preso anche questo portalistino verde in cui metterò tutte le schede che mi assegneranno i professori o anche, non lo so, magari qualche correzione, verifica, perché non sempre i professori ce le lasciano, però non si sa mai, io l'ho preso per sicurezza. Poi per fare pandam con il portalistino ho preso questo quaderno d'anelli piccolino in cui andrò a scrivere fondamentalmente tutti gli appunti. La cosa comoda di questi quaderni è che posso tranquillamente andarle a strappare e poi metterli sui quadernoni d'anelli. So già che quest'anno ci riempiranno di verifiche, ho preso i fogli protocollo, mamma mia, questo video non lo devono vedere i miei compagni di classe. No, compagni di classe, questi non sono fogli di protocollo, non ve li darò mai! No, scherzo, ovviamente ve li presterò, però non finite, mi dite perché servono anche a me! Poi ho preso anche fogli normali a righe, a quadretti, questi mi serviranno per matematica, fisica, chimica, aiuto e poi ancora altri fogli protocollo. Ah no, scusatemi, sono ancora altri fogli normali. Non c'entrano molto ma ci tengo a farvi di vedere perché secondo me non ha senso. Ho preso anche questi biglietti di auguri e possono servire magari da dare ai miei compagni quando festeggiano il compleanno, secondo me è una cosa molto carina. Ora ve li mostro più nel dettaglio. Ci sono quattro fantasi diverse, la prima è questa con le palme e lo sfondo viola, questa con i fiorellini e lo sfondo beige. Poi ho questi altri fiorellini con lo sfondo verde e per finire queste bellissime foglie, questo è molto elegante, davvero particolare, soprattutto perché è luccicante. Poi ho preso questi cartoncini colorati, c'è l'azzurro, l'arancione, il giallo, il verde e il rosso e boh magari non li useremo a scuola ma serviranno principalmente per dare un po' di colore a quest'ultimo anno scolastico. Peraltro ho preso questi fogli F4 uvidi e lisci, speriamo che quest'anno i disegni siano un po' più semplici. Ho preso questo astuccio, è davvero grazioso in cui andrò a mettere delle matite o delle penne e mi piace molto perché è glitterato, non so se lo vedete bene ma ci sono i glitter. E poi è anche super spazioso, ho preso questo astuccio, non so perché ma mi dà l'idea che questo appartenesse a una sirena perché guardate bene il colore, non so, quando vedo i colori viola, fucsia, luccicare così, mi danno proprio idea di sirena, sirenetta, questo forse apparteneva ad Ariel, wow. Poi ho preso questi marcatori e mi serviranno per andare a scrivere il mio nome e la classe sui diversi libri di testo così non faccio confusione con quelli dei miei compagni. Una volta avevo preso il libro di italiano della mia compagna di banco e la stessa sera mi stavo rendendo conto che quella non era la mia calligrafia e io non avevo usato quel colore per evidenziare le cose. Un'altra penna a marcatore sempre per lo stesso motivo, delle matite color pastel davvero graziose, questi colore mi trasmettono un sacco di calma, non so se per voi è così. Ho preso questi pennarelli a effetto metallico per scrivere i titoli dei miei appunti così da renderli un po' più eleganti, più carini, più elaborati. Devo imparare a fare il lettering che è tipo questo, non so se è precisamente questo però sono molto belle le scritte in corsivo con l'ombra, poi il luccichio, veramente insegnatemi perché non ne sono capace. Ho preso questo compasso perché quello dell'anno scorso si era rotto e mi sono ritrovata a fare una verifica di geometria con il temperino. Ho poi utilizzato anche gli scotch, quindi ho comprato la mia salvezza e boh anche perché sono utili per incollare le cose senza dover utilizzare la colla perché io la colla la finisco in fretta, invece gli scotch riesco a utilizzarli un po' meno spesso e a farli durare un po' di più. Ho preso anche queste gommine tanto carine a forma di cimietta, c'è rosa, azzurrina, poi bluette, viola, indaco e poi arancione, non si vedono. Eccola qua una, eccole qua tutte insieme, davvero bellissime. Continuando ho preso queste forbici, ovviamente rosa perché il rosa non mi piace, oddio no, anche tu no, aiuto. No io ragazzi scusatemi ho un debole per il rosa. Proseguendo ho acquistato anche questa pochette in cui andrò a mettere i trucchi, però adesso l'ho riempita con altri prodotti. Ho preso delle maschere di bellezza perché sicuramente i primi giorni di scuola ci terrò un po' di più all'aspetto e anche perché avrò un po' più tempo perché giustamente dall'estate mi dovrò un pochino riprendere, quindi mi sveglierò un pochino prima. Quindi avrò tutto il tempo per fare la skin care e mettere il trucco decentemente, poi nel resto dell'anno sarà già tanto se metterò un po' di fondotinta o un po' di mascara. E niente, li ho trovati molto carini perché questo è a forma di leone e questo invece di giraffa. Guardate che pelle! Ho trovato grazioso anche questo burro cacao a forma di volpe. Davvero grazioso, che carino! Visto che c'ero, ne ho preso un altro di burro cacao, questo sa di torta, quindi ero curiosa di provarlo. Ho preso queste penne e mi è appena venuta in mente una cosa, ovvero che io all'elementare per scrivere le unità, le decine, le centinaia e le migliaia, non so se poi siamo arrivati a numeri più grandi, utilizzavamo quattro colori diversi per ogni cifra. Ogni volta che dovevamo scrivere uno, due, tre, quattro, cinque, dieci, venti, cento, mille, dovevamo ogni volta cambiare il colore. Mamma mia, che noia! Però vabbè, lo ricomprate perché questi mi serviranno per gli appunti sempre. Immancabilmente non potevo non prendere questi quaderni, questi sono un po' più semplici perché non sono ad anelli. Guardate che belli! Su questo ci sono dei mini sushi con le faccine kawaii, carinissime. Ed è a righe questo. E su questo invece ci sono i gelatini, che carini! Ho preso anche questa mini agenda, l'ho presa principalmente per la copertina con le fregoline. E anche questa, come l'altra, ha dei separatori. Qua ci sono delle pagine e poi le varie sezioni. E poi ho preso altri pennarelli. Questi sempre per colorare oppure anche sempre per gli appunti. Mamma mia, me l'avrò sfancata con questi appunti! Però vabbè, davvero carini. Questo mi piace anche per la copertina. E poi per concludere in bellezza, dato che io la mattina, prima di prepararmi, utilizzo sempre una crema, ho fatto che a prenderne direttamente tre. E io mi sono sempre trovata bene con queste perché una, adesso non mi ricordo di precisi profumi, quella azzurra sia tipo di vaniglia, quella rosa di fragola e quella viola ai mirtilli, lì dovrebbe essere più o meno così il profumo. Però davvero la mia preferita è questa qua rosa, stavolta non per il colore, ma proprio perché mi piace il profumo della fragola. E davvero mi trovo molto bene. E niente ragazzi, questo era il mio All Back to School, spero tanto che vi sia piaciuto. Scrivetemi qui sotto nei commenti qual è stato il vostro materiale preferito. E niente, seguitemi su tutti i miei social, lasciate like, attivate la campanella per non perdere nessun altro mio video. E noi ci vediamo alla prossima! Buon rientro ragazzi! Buon rientro ragazzi! Grazie.